... Credo che il teatro ancora di più debba in qualche maniera fare delle denunce. Laddove tu inventi sei sempre falso, no? Sempre metti qualcosa di tuo che non c'entra, perché come sempre la realtà è molto più forte per il teatro e per la funzione. Cioè il lavoro è fatto con l'attore, ma laddove tu senti la mano del regista eccessiva che vuole farti capire o vuole crearti un'emozione, tutto diventa finto, no? Sono tre personaggi che disegnano la parabola della vita, perché in qualche maniera abbiamo dell'americana che in qualche maniera cerca di avvicinare il pubblico a capire che soprattutto quando si è in guerra funzioniamo con un'altra testa. David Kelly invece è un microbiologo di 60 anni, 59 anni, molto importante in Inghilterra, ed è quello che suicida e si fa trovare in un parco che non si capisce bene se è stato suicidato o se si è suicidato. La donna irachena viene uccisa dalle bombe degli americani che vengono a salvarle, quindi ecco perché il paradossio. È un testo che non sta né da una parte né dall'altra, ma che sta solo dalla parte del uomo. La grossa operazione che io ho fatto di regia è di averli tolti da questo realismo quotidiano e averli portati in questo spazio assoluto dove loro diventano degli esempi, degli archetipi condannati dalla storia contemporanea. Non è nessuno di noi è inocente. Questo è molto importante perché abbiamo, io credo che in quali posti del mondo, abbiamo tendenza a giurare molto severamente a chi non pensano e a chi non facendo lo che non sono. Nel momento in cui hai deciso di farlo, fino alla fine, che cosa hai scoperto? In che realtà agghiacciante noi siamo, perché è un testo dove ti fa una fotografia di quello che è il nostro mondo, di quello che è la nostra realtà. di quello che è la nostra realtà. di quello che è la nostra realtà.